e benvenuti in questo nuovo video una cosa raga ho visto che siamo arrivati ai like quindi abbiamo deciso di fare il quarto episodio del bosco ma faremo una cosa molto speciale ragazzi e già come potete vedere ci sono tutte le lampadine accese ragazzi ma perchè è tardissimo è scoccata da poco da poco non a foca è scoccata da poco luna infatti ragazzi se adesso non sbaglio dovrebbe essere dovrebbe essere e vabbè qua non si vede assolutamente niente però luna e uno giù si esattamente perfetto quindi ragazzi volevo dire è luna e due esattamente scoccata da poco e ho detto cacchio ma perchè non registrare un video a questo bosco andremo a cacciare i cinghiali faremo qualcosa di figo raga io ho un po' paura perchè a quest'ora ragazzi ci stanno i cacciatori e tanti se ne sentono quando usciamo fuori poter magari si potrebbe sentire qualche qualche cinghiale cioè da qua no però quando sembra il bosco si quindi ragazzi niente sto preparando lo zaino per doi chiacchiere e direi di iniziare raga ah ecco qua useremo soprattutto la copro quindi raga addios baby ok ragazzi molto meglio prepariamoci sarà una bellissima avventura non vedo l'ora prepariamo lo zainetto ragazzi ciao 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 C'è un po' di cioccolato da qua Un modo dolce Trovate Buongiorno Che cosa sta facendo Dario Fra ho un'idea Se non dite 100 like voglio andare nel posto a quest'ora E' girato? C'è la porta? No no E vai via Apri la bocca Apri 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 Svegliati Alzati Ma ma stai scherzando? Al lavoro Forza scout Prenda lo zaino Scalpe Vestiti Pantaloni lunghi Per evitare le spine Forza Si alzi Scalpe la ginnastica Calzini che puoi rovinare Ma tu stai scherzando? No Al lavoro Mangi il gelato L'ho preso con tanto amore Vuole essere un pigiama Ti cambi Ora Ti do un secondo Chiudo la porta Kevin E la madonna Fra ma te sei troppo veloce Fra Complimenti Batti il 5 Una cosa Si Non ti ho chiesto Si Dove sono Mezza Quasi No è un po' prima E dove volessi andare? Fra nel bosco Gotta cinghiella E cacciatore Scusami Non ti volevo uccidere Fra Dimmi fra 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 Ti sei fuori di melone? No di gelati Guarda per questa volta Sei perdonato Perché mi portavo il gelato Però la prossima Ti ho messo tutto il naso In bocca Sulla guancia Ancetta si è sciolto E ti ho fatto un dising Sulla guancia Dormi buonissimo Calzo sei alto Fra Porca troia Che cazzo Sei più alto di me Kevin Scarpe Andiamo No Ok scusa Mi sono sbagliato Non è l'1.20 L'ho fatto uno scherzo Non è l'1.17 Mi chiudeva Andiamo Metti i direi scherpi Te lo giuro Che una volta di questo È distrazzo Ma se ho portato il gelato Come fai a distrazzarmi? O non ci credo Tu stai cadendo contemporaneamente Perché? No Ma no Ancuno Fra Un ufo No È un aereo Aspetta Mi chiami Non ci scherzare Lo so 2000 years later Si diventia pisciuta Ti devi proseguire giù Andiamo Andiamo Franzi che pisci il cazzo Oddio raga Guardate sto rame enorme Fra Questa qua che è Natana? Ecco Taglia Taglia Che te raga dai Vai avanti Vai Dove cazzo andiamo qua? Non lo so Vicino al fiumiciatolo La gioci Aspetta Quella è la rete No 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 È il clima Cazzo Ok arriva Noi scendiamo Cacchio Kevin Attento che è ripidissimo C'è un casino Di caschi di vecchio No 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 Eh Non vedi Cazzo Scusa faccio ripresa pure alla rec Aspetta Piano 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 Cosa è stice? Stiamo camminando un sacco di notte Peste notte Io non so se ci siamo già persi Io non so dove siamo andati Ora ti rilassi a ride Ok perfetto Ok cacchio raga È un burrone Guardate 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 Ragazzi ho già passato i 10 minuti E non sappiamo dove ci troviamo Non so perché va a finire sempre così Guarda qua Che è una comuna di legno No wow Fichissime Eh Chi l'ha fatto? Porca Le spine Le odio Ma tu mi punti con questa doccia Ragazzi Te la vedi Mi cato Camminiamo in su Vai 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 Ho sentito parlare Bravo 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 Sono serio Oh cazzo Ti sei che Oh porca puttana Regà Guardati Che cos'è? È il resto di un fiume Non lo so e non lo voglio sapere Scaliamo qua Ma tu sei pazzo Lì Diciamo Eh sì ma Riprendi per terra Non so dove sta Tra i gocciatori Eh sì Se sentiamo i cani sì Aspetta Oh va bene così Ma porti te o questa Bene Infatti Te la mettiamo Ok io c'ho quella piccolina Perfetto Vuol dire sono il migliore Giusto? Oh cazzo No 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 Kevin Kevin Cazzo Cazzo Che mo che cazzo Kevin Merda non c'ho il telefono Sta nello zaino Oh porca merda Kevin c'è lo zaino Mi conviene scendere No raga Devo scendere per forza Devo scendere Vai Via Kevin Kevin Oh dio santo raga Do sta cazzo Porca troia porca troia Porca troia Porca Che Kevin No che Oh che 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 Kevin Pro 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 Che cazzo è successo No Pro 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 Stai Stai Primo Adesta Vedete si è fatto male Pro Pro Adesta 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 Continua la ripesa La stop Continua Pro 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 Che hai Ah Dario Kevin Tutto il posto No Pro Pro Stop Un attimo No Rega vi devo far vedere Luna e 50 No Pro 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 Dai Pro No Pro Che Che cazzo Pro Dai Che cazzo è qua Ti hai il bosone Oggi abbiamo Il bosone Cerato Con il video Tanto Gradino Eh Andrà Ninno Vado a prendere Il chiaccio Tu sta Tu sta Tu sta Tu sta Tu sta Ah Cazzo Tor Ti Eccolo, vai vai, tieni ghiaccio. No, te lo fai al serio, dai, grazie, tieni devo portarlo per un gelato, fai l'altro da solo e dici, ragazzi per questo video un po' catastrofico un po' tutto, mi dispiace che sia andato a finire così perché per caso è un video proprio che secondo me sarebbe stato molto figo. Però fa niente ragazzi, l'importante è che mi sta bene, il video e queste cose qua arrivano dopo. Quindi ragazzi per questo video e per rifarlo, perché non ci siamo capiti bene, per rifarlo perché è molto piccolo, vogliamo. Ok ragazzi, è stato un video un po' strano, un po' spaventoso. Quindi ragazzi mi raccomando, iscrivetevi, diventate la campanella, lasciate un bel like e mi dispiace se non andate a finire così. Sì, cari in questa, oh, stai meglio. Eh, dormi Gesù stai notte stai lanci. Ok raga, ci vediamo al prossimo video. Non puoi andare a tratto così però, c'è che è tutto però. Vabbè. Stiamo un attimo qua fra, perché mi ricordi di te, io. Sì, vado a fare delle cose. Bella che è? Ciao. Bella ragazzi.